Questa è Nicole e ha vinto i biglietti per il concerto degli R5 per lei e le sue amiche grazie a un concorso di Disney Channel. Facciamo parte degli R5 Family. Abbiamo guardato il Tintin B.C.Movie e dovevamo contare quante volte Ross Lynch appareva in sovrappensione. Abbiamo partecipato a questo concorso e appena mi è arrivata la lettera ho scritto che avevamo vinto e loro tre hanno reagito. R5! R5! Ciao! Siamo gli R5! Io sono Ryker. Ross. Io sono Ryder. Ratliff. E io sono Rocky. E sono canzoni che per noi hanno significato molto. La canzone che ci piace di più degli R5 è Loud. La canzone che preferisco suonare forse è Loud. Sì, anch'io dico Loud. Anche per me è Loud. Però lui preferisce suonare Hey No Way perché così ti racalci. Sì, Hey No Way We Are Going Home. Hai ragione. Nicole, Giada e Silvia non solo hanno partecipato al concerto. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma hanno anche avuto la possibilità di incontrare gli R5 in persona. Troppo bello. Troppo bello. Troppo bello. E' veramente l'osso. Sì! Milano è solo una delle tappe del loro tour. Questo tour è cominciato in Polonia e poi ci siamo spostati a Tel Aviv, in Israele e da lì in Norvegia. Da lì siamo andati in Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania, Belgio, Amsterdam, di nuovo in Germania e Italia. Assolutamente, wow! Che memoria, eh? Il concerto, specialmente quello dell'altra sera, è stato pazzesco, favoloso, uno dei migliori spettacoli di tutto il tour. Questa è una delle cose che amo degli R5 Family. I nostri concerti sono incredibilmente colmi di energia. Quell'energia che è parte dei nostri show. Gli R5 Family italiani sono folli, in senso buono ovviamente. Sono favolosi, pieni di passione. E' troppo bello! Stupendo! Stupendo!